Siamo con l'allenatore Ilchieti, mister Chianese. Partiamo dalla vittoria, una vittoria importante su un campo difficile. Cosa si porta via? Il risultato innanzitutto è l'apprezzazione della squadra giovane che ha messo carattere, ha saputo soffrire quando c'era da soffrire, ha saputo dare la stoccata importante quando c'era da dare la stoccata importante. Come ha detto ai suoi colleghi, faccio i complimenti al Torrentino perché secondo me non rispecchia la classifica attuale, anzi forse rispetto a tante altre squadre che ho incontrato, questa è una squadra che comunque ha una idea di gioco e ha aggressività e dispiace davvero tanto, però sono convinto che ce la possa fare sicuramente almeno ad agguandare i play-out. Due sostituzioni nell'intervallo, cinque in totale, tutte nel secondo tempo, da lì è arrivato anche il gol. Ha visto qualcosa che non le è piaciuto particolarmente nel primo tempo oppure c'era qualche calo fisico? Complimenti, bravo. Nel primo tempo abbiamo fatto un po' fatica al centrocampo e anche sugli esterni perché loro erano bravi con il loro modo, ci hanno un po' messo in difficoltà. Abbiamo cambiato modo, il sistema di gioco, siamo passati a quattro dietro con il trequartista e i due attaccanti e abbiamo preso più campo e quindi ho messo un giocatore più anche di rottura ma di qualità e di quantità che era Christop e poi ho messo un terzino vero e proprio che era Vaccaro. Ma gli altri sostituzioni non perché, ma c'erano giocatori in ammunizione e quindi non volevo che magari potessimo rimanere in dieci e quindi sono stati sostituiti i giocatori che erano anche in ammunizione. Una sconfitta che non ci voleva dopo un inizio di partita, uno dei più belli inizi di partita di questa stagione. Commentare questa partita non è facile per il dolore che ci ha regato a livello di risultato, però dire che i ragazzi non ci hanno messo l'anima e il cuore faccio fatica a dirlo questo. Per quanto riguarda l'andamento della gara invece abbiamo fatto i primi 7-8 minuti un po' desi e poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto 25 minuti di buon calcio con delle occasioni pure di cui una vitiello, il portiere ha fatto un paradone e poi il secondo tempo loro sono scesi in campo con una forza, una veglia superiore magari alla nostra sotto il profilo caratteriale. L'andamento della gara ci ha aiutato un pochettino a chiedere l'albitro perché permetteva un gioco duro dove noi non siamo mestilanti per questa cosa e sui contatti fisici abbiamo un po' perso. Su un disimpegno sbagliato nostro a centro campo è venuta una ripartenza sulla fascia dove una balla ritrosa dentro l'area, non siamo stati attenti con la difesa e hanno fatto gol e da lì la partita poi è andata sciorinando su delle interruzioni clamorose in cui la terna arbitrale non è stata brava secondo me a tenere un po' l'aspetto disciplinare sotto l'aspetto più equilibrato che poteva essere giusto per questo match. Ministro, una differenza c'è stata che si è vista chiaramente dal primo al secondo tempo del Torrentino, a cosa è dovuta? Ma sinceramente non posso recriminare niente ragazzi, io ho visto che hanno dato tutto, io non posso chiedere al ragazzo più di quello che ha, non lo so, adesso io parlando, vedendo il Chieti magari sui cambi hanno giocatori magari più di esperienza, noi siamo un pochettino più giovani, questo è palese, si vede, 2006-2005, però con questo non voglio adesso rammaricarmi per i giovani che abbiamo noi nella canterra del Torrentino perché se io sto qua ci sono proprio per questi e la società lo sa e quindi dobbiamo andare avanti con quello che ci abbiamo, non mi devo lamentare assolutamente, chiaro oggi per i tifosi e per la società sono sconfitto io, il primo a essere sconfitto sono io, però per i ragazzi no perché io da martedì in poi mi ritrovo sul campo con grande impito, grande ardore e voglia di fare. Viste gli altri risultati oggi una vittoria del Torrentino sarebbe stata eccezionale. Se guardo la classifica mi viene da piangere, se guardo il lavoro dei ragazzi no perché sono fiducioso su quello che tutte le settimane facciamo, io devo guardare quello. Grazie.